Eh, purtroppo è andata così. Non è bello perdere così perché comunque si gioca sempre su qualche secondo, gli a buoni, è un po' di tattica nel finale, però penso che non ho sbagliato niente, ho fatto tutto al massimo. In salita comunque ho dimostrato che stavo bene e nessuno mi ha messo in difficoltà, quindi mi dispiace perdere così, però complimenti comunque a Rui Cosa che è il più esperto e ha vinto ancora un'altra corsa con la sua esperienza, il ciclismo, si vince e si perde per pochi secondi, l'altro giorno ho vinto, oggi ho perso. Però dai, è stato comunque un buon test, è la prima corsa dell'anno, abbiamo praticamente un sacco di mesi ancora davanti, quindi provo a trovare un piccolo sorriso pensando a questo, però ripeto, questo è il ciclismo, si vince e si perde, oggi ho perso io per qualche seconda e ci rimane un po' più.